Musica Ragazzi Abbracciatemi tutti perché la musica unisce Per arrivare dove gli altri non arrivano devi fare cose che gli altri non fanno E se mi dicono che è sbagliato, tu fanno più forte ancora La regia della bossa ragazzi ha un solo HD Club in Italia Raccionare per gli uccionisti e lezze un po' di me Buona Pasqua a Gordini Musica 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 Grazie per la visione!